Oggi ad Impact Opticino abbiamo organizzato l'Agora, dove gli otto progetti ad impatto che stiamo accompagnando incontrano la cittadinanza, raccogliendo consigli, critiche e feedback per rinforzare il proprio modello di business. L'Agora è un luogo di incontro dove anche noi possiamo farci un'idea di progetti sul territorio e possiamo portare un piccolissimo contributo su qualche visione, qualche idea che ci viene. Il bello di questa Agora è il fatto che abbiamo un pubblico molto disparato, dai professionisti ai politici, agli ingegneri. Mi è piaciuta l'interazione da un lato di chi ascolta e poi porta delle idee, dei commenti, fa delle domande e anche da parte dei presentatori che si sono messi in discussione. Mi porto a casa anche gli stimoli che sono stati portati delle altre persone che come me sono state invitate a partecipare qui. È stata una giornata felice perché so che qua posso ritrovare una freschezza e un dinamismo che mi piacciono molto. Questa è l'Agora, una piazza dove si discute e si crea assieme.